ciao sono tiziano e lavoro in biblioteca civica pietro mario beghe alla spezia parlando della mia esperienza durante questo periodo di emergenza regata al covite 19 in biblioteca mi viene subito in mente che abbiamo passato una primissima fase di chiusura al pubblico nella quale noi all'interno abbiamo fatto un lavoro proficuo di revisione delle raccolte di riordino e di sistemazione dei locali un lavoro che nella biblioteca scafa l'afferto è assai utile e molto importante purtroppo a causa del decreto di aprile quindi della chiusura totale il lavoro si è spostato inevitabilmente a casa dentro le nostre amore domestiche quindi con l'utilizzo massivo del computer abbiamo notato che il rapporto diretto con l'utente si è trasformato in un rapporto indiretto nel quale noi attraverso la nostra casella di posta attraverso il telefono quindi attraverso una modalità per lo più telematica abbiamo cercato di continuare il rapporto col pubblico soprattutto incrementando quello che è il servizio digitale o meglio i vari servizi digitali che abbiamo per prima cosa abbiamo come sistema bibliotecario urbano abbiamo deciso di rinnovare la tessera gratuitamente ai nostri iscritti e per quelli nuovi la possibilità per tutto il periodo dell'emergenza di avere una tessera gratuita quindi con un incremento sostanziale non soltanto degli ebook ma anche di quei servizi digitali molto utili soprattutto per le persone più anziane com'è l'edicola digitale nella quale è possibile consultare un numero molto grande di quotidiani rispetto a quello che normalmente uno riesce quando entra in biblioteca in aggiunta abbiamo cercato di incrementare il rapporto con l'utenza attraverso i canali del social network come ad esempio facebook e instagram è stato un lavoro innovativo per noi e anche rinnovativo perché abbiamo cercato di spostare gran parte delle attività dell'area comunicativa di reference che normalmente facciamo al bancone all'interno dei canali social e con un discreto successo purtroppo ci sono state anche delle grandi criticità quella più palese il fatto di non essere fisicamente in biblioteca e di escludere gran parte del patrimonio cartaceo soprattutto la seconda è quella appunto che parte dell'utenza soprattutto quella più anziana o l'altezza lo strumento digitale non ha potuto usufruire appunto dei nostri servizi e quindi purtroppo è stata esclusa in questo periodo se penso invece a cosa ci rimarrà da questa esperienza innanzitutto mi viene in mente il fatto che ormai la biblioteca non è più identificabile come una struttura fisica un contenitore di libri ma come una grande struttura che non ha una vera propria formazione una vera propria struttura ma è un insieme di servizi di canali informativi e di possibilità per il cittadino al di là del fatto che identificabile con una struttura fisica perciò non solo penso che i servizi digitali abbiano notevole possibilità di incremento ma penso anche che possa essere una struttura di riferimento un grande canale informativo e di divulgazione anche in qualche modo scientifica per il prossimo futuro perciò penso che la biblioteca post coronavirus sia una sorta di ibrido da una parte purtroppo avremo una biblioteca molto vuota rispetto a prima per quanto ci riguarda che noi che eravamo abituati avere un gran numero di studenti universitari penso che questo sarà notevolmente ridotto e penso anche che la biblioteca post coronavirus quindi collegandoci alla fase 2 sia una biblioteca che debba avere una gradualità nella sua apertura quindi penso che si possa passare inizialmente dal fatto di aprire il prestito quindi la possibilità adesso dell'utente di riconsegnare i libri che aveva prestito di prenderne altri e anche con una gestione oculata di servizio attraverso una quarantena delle stessi libri che quindi possiamo dire scherzosamente possono essere considerate quasi come una barra duranio in cui noi dobbiamo stare con guanti e maschere molto attenti a dove depositarli e come trattarli e avendo molto cura di conseguenza poi per la restituzione a un nuovo utente successivamente avremo anche una seconda fase quella al cui l'utente pian pianino dovrà presentarsi e quindi ripopolerà ovviamente avendo il distanziamento sociale ben in mente le nostre sale a questo punto penso che sia la parte più difficile prima di tutto perché non tutte le biblioteche hanno quegli spazi o hanno anche la possibilità di far sì che non ci sia assembramento d'altra parte anche perché noi il nostro ruolo diventerà una sorta di arguscazza di harry potter in cui controlleremo qualsiasi cosa fa l'utente e saremo sempre dietro a guardare che non metta in qualche modo a repertaglio la sicurezza e l'incolumità non solo nostra ma anche degli altri comunque sono fiducioso perché penso che la biblioteca sia in continua evoluzione e possa sopravvivere anche in questo momento d'emergenza grazie a tutti quelli che ci lavorano e nostri affezionati utenti